Ciao a tutti angeli, benvenuti in un nuovo video. Chi sono io? Io sono Charlie, o almeno lo ero. Stiamo registrando qui in queste condizioni, con questa faccia, ho mantenuto molto male perché purtroppo sono stato male in questi giorni. Ho avuto una semplice influenza, però comunque mi ha devastato. L'allergia mi sta annientando con questi sbalzi ballerini di stagione, però non volevo lasciarvi senza video. Quindi eccoci qua, mi beccate così e se siete nuovi non scappate, di solito sono messo in condizioni migliori. Potete vedere altri video, giuro, è vero. Di solito mi mantengo così solo per il mio gatto, c'è nel senso. Nessun altro mi vede così. In questi giorni ci sono stati altri tumulti nella beauty community, ci sono state altre notizie. In particolare si è parlato di uno shampoo che fa cadere i capelli. E quindi quando si parla di scandali, quando si parla di problemi nella beauty community, arrivo io, mi manifesto. Così come si manifesta l'Aisa Minelli quando c'è troppa energia gay in una stanza. Ed eccoci qui a parlare effettivamente di questo tema. Quello di cui parleremo oggi toccherà diversi punti. Parleremo di chimica, parleremo di cosmetologia, parleremo di legge e parleremo del sociale, del social in realtà. Non sarò da solo in questo video, infatti, mi accompagneranno due miei cari amici, due fantastiche voci che sicuramente conoscete già. Ho chiesto infatti l'aiuto per realizzare questo video a Nicolas, che è il parrucchiere di YouTube Italia. Se non lo conoscete è un fantastico hair expert e conosce bene la sua materia e sa bene quando parla di prodotti e come ne parla. L'altra voce è una voce ben solida nella beauty community e sui social da più di dieci anni. In realtà da dieci anni giusti quest'anno, congratulazioni. E stiamo parlando di Adriana Spink, regina del beauty italiano, del lifestyle italiano. Neomamma, ancora congratulazioni a te e a Fabio, e soprattutto neocosmetologa. Infatti quest'anno Adriana ha preso la licenza, è una neodottora, come dico io, in cosmetologia. Quindi vuol dire che sono due voci belle esponenti su questo campo, sanno quello che dicono. E io ho fatto le mie giuste ricerche, quindi direi che possiamo subito partire col video di oggi. Ma prima di iniziare permettetemi di ringraziarvi ancora una volta per il vostro sostegno, per ogni mi piace, per ogni visualizzazione, per ogni commento. Non do nulla per scontato e significano davvero il mondo per me. E tutto questo è possibile, tutto quello che sto costruendo è possibile grazie a voi. E vorrei davvero che poteste sentire quanto io sia grato di tutto ciò. Se in paese siete degli angeli nuovi che non sanno ancora come spiegare le ali, benvenuti a casa. Non vi resta che lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi al canale per saperne di più dello shampoo che fa cadere i capelli, che magari dovrei mettere dal lato giusto. Il protagonista del video di oggi è appunto lo shampoo Elvive Hydra Yaluronic di L'Oreal. L'Oreal ha una storia molto interessante e mi piacerebbe trattarla in un video particolare. Fatemi sapere con un commento se volete sapere la storia di L'Oreal, come è diventata uno dei gruppi del mondo della cosmetica più importanti e influenti. Dopo L'Oreal a parte parliamo del singolo brand L'Oreal. L'Oreal ha una pletora di sottobrand, se vogliamo, ognuno che si occupa di una zona diversa della cosmetica. Abbiamo la zona make-up, la zona skin care e la zona capelli. La zona capelli, il reparto capelli, è appunto sotto il nome di Elvive, Elvive di L'Oreal. E in questi giorni, in particolare su TikTok, dove volete se no, si è scatenato un nuovo scandalo, per il quale molte persone dicono che questo shampoo faccia cadere i capelli. In realtà lo scandalo non si è generato in Italia. Lo scandalo ha origine nei paesi spagnofoni, nei paesi dell'America Latina e comunque dove si parla lo spagnolo. E quindi ci sono state molte importazioni dall'America Latina, oltre il mondo di patti e violetta. E siamo arrivati a questo scandalo. Molte persone hanno infatti lamentato che dopo l'utilizzo di questo shampoo, abbiano iniziato a o a perdere i capelli, o addirittura a perdere intere ciocchi di capelli. Come succede spesso nel mondo social, una notizia, anche se geolocata in un particolare posto, va a diventare poi globale. In particolare, in Italia si è scatenata tutta sta diceria che questo shampoo farebbe cadere i capelli. Ma è vero. Ecco, io sono andato a fare ricerche sia a livello storico, se ci fossero stati altri casi del genere, sia a livello ingredientistico. Andremo a parlare anche infatti degli ingredienti che compongono questo shampoo in particolare, ma in generale di come funziona l'ingredientistica e l'incis, se non siete esperti nel settore, sono argomenti che potreste tirare fuori a una cena per far vedere che voi siete più acculturati degli altri, che fa sempre la sua porca figura, insomma. In realtà, se devo essere onesto, ho notato che si parla di due shampoo, e già questo mi ha un attimo fatto storcere il naso, mi ha fatto interessare alla questione, perché quando c'è già un contrasto in termini di argomentazione, vuol dire che non ci si basa su delle fondamenta così sicure. Sì, è vero, hanno parlato dell'Hydra Hyaluronic Shampoo di Elvive, ma anche della linea Hydra Pure, che è una linea che in realtà non so se ci sia nel mercato italiano, ma sicuramente è presente in quello dell'America Latina. Parlerò principalmente per quello che abbiamo anche noi, visto che mi interessa in particolare dei creator o aspiranti tali, o persone che comunque hanno fatto video sull'argomento in Italia. È un argomento da vicino, non solo perché io ho usato questo shampoo, ma perché ho parlato in altri video del mio problema di partita di capelli e quanto questo mi genere disagio, quindi ho prestato bene le orecchie e ho detto, oddio, magari sarà questo shampoo a farmi partire i capelli, e lo scopriremo all'interno di questo video. Parliamo un po' delle cose più vere, insomma, la sciccia che ci piace. Iniziano questi video in America Latina, generano chiaramente un sacco di clout e visibilità alle persone, parliamo di milioni di visualizzazioni, e chiaramente la stessa cosa poi succede in Italia. Le persone iniziano a fare video sull'argomento e dicono, sì, anche io ho perso i capelli, anche a me è successo, a ciò che mannaggia all'Oreal, mannaggia al Viv, mannaggia alla zia che mi ha venduto questa cosa, mannaggia a tutti, mannaggia a Charlie che ne sta parlando. E in questo mega ambiente di mannaggini e mannaggette, quando parliamo di danni così importanti ai capelli, il problema si deve ricercare chiaramente nella formulistica, nell'ingredientistica del prodotto. Quindi quello che ho fatto io è stato andare a prendere il mio shampoo, bello utilizzato, per gli angeli che mi stanno solo ascoltando e non mi stanno guardando, vi faccio sentire la prova audio. Questo è il suono che fa uno shampoo bello utilizzato. Io questo shampoo l'ho usato negli scorsi due mesi, quindi posso parlarne anche con condizioni di causa, vi dirò anche alcune teorie che ho su questo shampoo, però in generale quello che ho fatto è stato andare a prendere lo shampoo e andare a controllare l'inci. L'inci è l'ingredientistica. Quando si parla di ingredientistica, per legge deve essere riportata nel retro o comunque nella confezione di un prodotto. Quello che sto mostrando è l'inci, quindi la parte più alta dell'inci, in questo caso l'acqua, è l'ingrediente con maggiore percentuale all'interno della formula di questo prodotto, mentre quello che è all'ultimo posto, che in questo caso è il profumo, è l'ingrediente con meno percentuale nella formula. Questo vuol dire anche che ci dà già un'idea di come può essere composta una formula dal punto di vista cosmetologico e chimico, ma soprattutto per chi è attento, per chi sa magari di avere allergie, è un'ottima indicazione perché sa se può usare o no quel prodotto. Io sono un individuo allergico, ho un sacco di allergie, troppe per i miei gusti, tra cui ad esempio, per farvi capire banalmente, l'ulivo. Io se sto sotto un albero di ulivo in fioritura, praticamente smetto di respirare, praticamente non tanto diversamente da come sono messo in questi giorni, però non ho abbracciato alberi di ulivo in questi giorni, è semplicemente l'influenza. Quindi ci dà già delle indicazioni e sono andato a leggermi e a cercare ingredienti per ingredienti e cosa c'è dentro questo prodotto. Ora vi farei una lista precisa e vi direi in generale, siccome non voglio che questo diventi una bibbia praticamente dell'ingredientistica, vi cito giusto gli ingredienti principali o quelli che potrebbero far alzare di più le sopracciglie. Come vi ho già detto, il primo ingrediente è l'acqua, li sto leggendo qua perché me li sono scritti tutti più in grande e che in questi giorni sto avendo problemi pure agli occhi. Allegria, così i 30 anni si stanno iniziando a far sentire e non li ho ancora compiuti. Al secondo posto abbiamo il sodium laures sulfate. Questo solfato di sodio lauretano, non so come si dica in italiano, è un agente schiumogeno. Questo agente schiumogeno, se guardate nei vostri dentifrici, noterete che è presente. Genera la schiuma, è quello che letteralmente fa la schiuma e ci dà l'impressione di essere più puliti. Sia per una questione mentale, che quando vediamo la schiuma pensiamo, non lo so, alla bacinella delle nostre nonne, e bisnonne che, come dire, ma Cagliari stregiavano i panni lavandoli. Per chi non è sardo, stregiare vuol dire... Non so, non so esattamente cosa voglia dire, tipo... Ale? Stregiare tradotto. Io uso il mio fidanzato come Alexa. Strofinare. Stregiare vuol dire letteralmente strofinare, compreso di movimento... La schiuma, chiaramente, oltre a darci quella percezione, effettivamente permette una volumetria, un aumento di volume del prodotto, un'espansione del prodotto, e quindi effettivamente è più facile da usare, però ecco, c'è questa doppia ambivalenza. Al terzo posto abbiamo il Glicol disterete, che è un emulsionante per l'accio, quindi è un emulsionante, è un emulsione di per l'accio, appunto. Non fa male, comunque. Perché qui nessun problema, è semplicemente per dare quell'iridescenza, è per cambiare leggermente la formula, però non fa nulla. Poi abbiamo il Sodium Chloride. Il Sodium Chloride, o Chloride, o come lo volete chiamare, io lo chiamo SC, è un volumizzante, quindi quello che va a volumizzare i capelli, ovviamente, sì. Io mi sento un deficiente a dover dire queste cosette autologiche, perché se c'è scritto volumizzante, volumizzerà, ovviamente. Però non si sa mai, sapete che ci sono sempre quelli che... meglio specificare. Poi abbiamo un altro agente che ha uno di quei nomi improbabili, che non so pronunciare, Cocamidopropilbetaine, facilissimo del resto da pronunciare, che è un agente di pulizia, un antistatico, quindi quello che effettivamente va a pulire i capelli. Continuando, abbiamo il Dimeticone. Il Dimeticone è un silicone. I siliconi, sebbene ci sia questa grande guerra ai siliconi puntualmente, se seguite il Beauty Community d'anni, sapete che ogni volta che una beauty guru leggiava Dimeticone lanciava i prodotti, ecco, in realtà, non è esattamente così. Nel senso, il Dimeticone, sì, non è il massimo, perché è un silicone. Ma facciamo bene attenzione. Può essere utile nelle formulazioni per capelli o per il make-up, perché, appunto, essendo un silicone, va a creare quell'aspetto, crea un film, una copertina, una pellicola sulla faccia o sui capelli, che vanno a rendere il tutto perfetto e hollywoodiano. Perché si dice che non faccia bene la skin care? Proprio per questo motivo, perché creando una pellicola potrebbe, e lo fa, ostruire i pori, quindi non permettendo la naturale e normale traspirazione della pelle. La skin care notturna non dovrebbe avere dimeticoni, perché di notte assorbiamo di più i prodotti e quindi il dimeticone potrebbe andare a ostruire e danneggiare la nostra pelle in maniera progressiva. Ok? Andiamo avanti. Superata la paura dei silicone. Per quanto riguarda i capelli, va a creare, appunto, una pellicola. Ci dobbiamo preoccupare più del fatto che effettivamente non li stia rendendo forti e belli. Al massimo vi dà quell'impressione, ma non è esattamente così. Ok? Andiamo avanti. Continuiamo con il CI6730 che è un colorante di tipo violetto. Infatti, guardando questo shampoo, se l'avete mai visto, ha una leggera colorazione perlescente viola. Non come uno shampoo antigiallo, ma semplicemente quella leggera colorazione che ci fa dire oddio, è pulito! C'ha un profumo. Il profumo è all'ultimo posto. Parleremo anche di questo. Continuando, abbiamo altri schiumogeni, abbiamo altri agenti di pulizia, poi sodio, un benzoate che è un anticorrosivo, un conservante che chiaramente insieme al fenoxietanol è che è un antimicrobico, aumentano e garantiscono la vita del prodotto. Ed è proprio grazie a questo motivo che i prodotti possono durare di più, perché se non avessimo i conservanti sintetici tendenzialmente il prodotto proprio per una questione di degradazione cellulare andrebbe a diventare esausto prima e lo dovremmo buttare prima. Vi ricordo, rinnovo sempre il consiglio di andare a controllare il PAO visto che ho il prodotto qui vicino vi faccio vedere il PAO. Il PAO è questa scatoletta qui, quella dove c'è scritto in questo caso 12 mesi, quindi 12 mesi dopo l'apertura, quindi il PAO vuol dire period after opening, 12 mesi dopo l'apertura di questo prodotto il prodotto va buttato. È un consiglio generale, non è una regola, è un consiglio perché dopo per gli studi che hanno fatto durante la produzione e formulazione di questo particolare prodotto ma in generale di tutti i prodotti si è stabilito, si è verificato che dopo quel periodo si è raggiunta una degradazione molecolare che porta il prodotto ad essere esausto e potrebbe farci male. Detto questo, ci sono anche altri ingredienti come il sodium hydroxide che sono permessi in Europa ma hanno una regolamentazione nel senso che vanno usati in maniera particolare con una determinata quantità perché l'eccesso di quella quantità non è permesso, non è legale in Europa. Quando parlo di legale parlo di un regolamento di cui parleremo più avanti che fornisce delle regole vincolanti per la produzione formulazione e distribuzione cosmetica nel mercato dell'Unione Europea ma anche il Tridecet 3 che è un tensiativo i tensiativi sono quegli agenti che vanno a ridurre la tensione superficiale dei cosmetici e permettono una distribuzione migliore del prodotto ma anche l'acido salicilico se siete esperti di skin care o fate skin care o seguite di Beauty Guru avrete sentito più spesso molto spesso parlare di acido salicilico che è una manna dal cielo perché ha la pelle mista grassa perché è un acido un attivo che serve proprio a fare una leggera esfoliazione sul viso quindi permettendo di togliere tutte quelle impurità che sono sul viso che si accumulano sul viso ecco in eccesso l'acido salicilico potrebbe avere dei problemi e infatti è regolato non ci deve essere più del 3% del prodotto nei prodotti per capelli quindi più del 3% nei prodotti per capelli non può essere usato in generale nel campo dei capelli l'acido salicilico fa da antiforfora proprio perché fa una leggera esfoliazione del cuoio capelluto poi abbiamo altri agenti come il keratolitico che vanno a rimuovere quindi un'ulteriore esfoliazione per quanto riguarda le cellule morti limonene che anche questo è sotto regolamentazione non può essere usato più dello 0,01% è un agente profumato ma ancora l'acido fumarico che è un regolatore del pH l'amodimeticone che è un silicone gay il carbomero che è un gelificante ovvero la gente che permette l'aumento della viscosità del prodotto liquido perché è contenuto con alta percentuale di acqua e poi l'acido citrico che mischiato con l'argento può essere usato solo non oltre lo 0,2% e alla fine il profumo in generale tutti gli altri che non vi ho nominato o sono tensioattivi o conservanti detto questo ora vi lascio alle parole di due persone molto più esperte di me in questo campo ve le ho già presentate prima quindi direi di lasciare subito la parola al nostro amico Nicolás e alla nostra amica Adriana Spink ciao Angeli come va come state spero tutto bene mi sento come Giovanna Botteri sto registrando da Barcellona allora Ziacci mi ha chiesto Nico ma che cosa ne pensi dello scandalo Elvive shampoo eccetera allora secondo me ci sono tre cose da tenere in considerazione numero uno che magari vi ha già detto Ziacci i prodotti prima di essere immessi nel mercato europeo devono passare dei controlli severissimi ma vi giuro veramente veramente severi no amo non ho ancora parlato della reglamentazione ma grazie dunque se c'è anche la probabilità o il pensiero ecco che quello shampoo possa essere particolarmente dannoso che un ingrediente possa essere dannoso viene assolutamente tolto dal mercato quindi da questo punto di vista potete assolutamente stare tranquilli numero due dobbiamo riflettere sempre che lo shampoo è un prodotto a risciacquo dunque non permane sul capello non è come un living conditioner come magari potrebbe essere un trattamento o la plex come un K18 per esempio che lo stesso sta sul capello dunque lo shampoo difficilmente potrebbe come posso dire causare una perdita di capelli perché appunto noi lo massaggiamo sui capelli quanto? 30 secondi un minuto successivamente lo sciacquiamo magari le persone che hanno perso i capelli non l'hanno sciacquato bene alcune persone capita che rimanga lo shampoo incastrato nei capelli numero tre è possibile che le persone abbiano sviluppato magari una sorta di allergia al prodotto una sorta di anche sensibilità a quel prodotto per due fattori uno magari un ingrediente che a loro non andava particolarmente bene dunque l'utilizzo di quello shampoo e soprattutto l'esposizione di quella persona quella sostanza potrebbe aver causato una perdita di capelli in secondo luogo potrebbe essere una quantità eccessiva di prodotto nel senso che se magari noi abbiamo una cute grassa quello shampoo è specifico per una cute secca un hydraialuronic perfetto per un capello fortemente disidratato che ha bisogno di idratazione ha bisogno di nutrimento dunque un capello con una cute prevalentemente secca decolorati capelli decolorati eccetera è possibile che magari abbiano utilizzato innanzitutto delle quantità molto superiori a quelle consigliate nel senso che ci sono persone che se ne sbattono mezzo barattolo in testa in secondo luogo come ho detto in precedenza magari nulla non è anche sciacuato bene questo ha provocato prurito magari quella sorta di sensazione come posso dire pruriginosa anche del grattarsi terzo fattore che sicuramente può essere intervenuto è sicuramente come vi ho detto un fattore di allergie e di esposizione alla sostanza ma io mi chiedo anche una cosa se nel caso uno di voi in generale nota che con l'utilizzo dello shampoo inizia a perdere più capelli viene tanto prurito capita che gli shampoo magari non adatti a noi possano provocare prurito ci siano degli ingredienti che magari possono essere un pochino meno tollerabili eccetera cambiate shampoo cioè quello che non capisco di questa polemica se sentite che un prodotto non va bene per voi sentite vi ripeto la cute appesantita un po' di prurito non riuscite a lavarlo bene cambiate esattamente shampoo quindi perché non farlo prima piuttosto che non so causare questa sorta di buchi eccetera vabbè non credete a tutto ciò che c'è su internet lo shampoo il vive hydra hyaluronic non ha nessun ingrediente che può provocare la caduta dei capelli ha solo tensioattivi che rendono i nostri capelli più morbidi più idratati e non può in nessun caso causare la caduta di capelli non c'è nessun ingrediente che potrebbe farlo e in generale nessuno shampoo potrebbe provocare la caduta dei capelli shampoo diciamo comunemente venduti se no non sarebbero commercializzati quindi state tranquilli anzi il vive hydra hyaluronic è un'ottima linea rende i capelli molto lucenti molto proprio effetto specchio quindi insomma mi sono sempre trovata bene capelli non ne ho persi nonostante io sia anche allattando quindi insomma potete andare sul sicuro tra l'altro questa hydra hyaluronic è una linea con all'interno l'acido hyaluronico che è un ingrediente veramente ottimo nei prodotti capelli perché trattiene le molecole d'acqua e quindi rende i nostri capelli più lucenti morbidi a me è una linea che piace tantissimo tante ragazze che hanno usato i prodotti si sono trovate benissimo anzi direi la maggior parte nessuno mi ha mai scritto che si è trovato male quindi andate sul sicuro e non abbiate paura perché è impossibile che faccia cadere i capelli uno shampoo per capelli grazie mille ai miei compagni di questo viaggio in questo video e torniamo a noi Nicola 6 e Adriana hanno giustamente parlato di messa in commercio e regolamentazioni quello a cui fanno riferimento loro è la regolamentazione 1223 del 2009 questa regolamentazione è una regolamentazione dell'Unione Europea va a stabilire e a garantire e a tutelare la salvaguardia dei cittadini per quanto riguarda i prodotti cosmetici in generale per la messa in distribuzione e il commercio anche perché vi ho detto in particolare questa regolamentazione uno perché io sono in Unione Europea non so da dove mi stiate guardando voi fatemelo sapere con un commento però in generale se siete in Unione Europea tutti i prodotti che vengono prodotti formulati o venduti qua devono stare sotto questa regolamentazione secondo perché questa regolamentazione è una delle più rigide a livello mondiale è proprio ultra severa è conservatrice anche se vogliamo da quel punto di vista nello stesso tempo è progressista nel senso che va a analizzare puntualmente e aggiornarsi sugli ingredienti che vengono resi secondo nuove ricerche insicuri per l'essere umano cosa va a dire in generale questo regolamento ne ho già parlato in altri video in particolare in quello di Avon e degli scandali make-up però facciamo un breve assunto per chi si è perso quel video se non lo siete perso però andate a recuperarlo che male non fa cosa fa questa regolamentazione questa regolamentazione appunto oltre a disciplinare tutti gli aspetti prevede una persona esperta del settore quindi un tricologo un dermatologo un chimico un cosmetologo per l'analisi dei singoli ingredienti della composizione molecolare e del prodotto finito quando il valutatore della sicurezza così si chiama questa figura va ad analizzare tutti questi e li reputa sani e sicuri e che non vadano intaccare la salvaguardia e la sicurezza e il benessere dei cittadini europei c'è il suo lascio a passare e il prodotto può essere immesso in commercio senza il suo permesso si ritorna alla formulazione oppure semplicemente il prodotto non viene messo in mercato ed è questo il motivo per cui molti prodotti di make up ad esempio americani non possono accedere al nostro mercato o come nel caso di Kylie Cosmetics hanno avuto bisogno di un rebranding di una riformulazione per poter essere immessi state facendo un sorsetto di vinaglio bianco io mi sto facendo un sorsetto di Supradin di qua e là però ci siamo no perché io mi preoccupo per il vostro benessere cioè fatemi sapere oltre il valutatore io faccio il vostro valutatore della sicurezza se state male alzate le mani a un certo punto al video e fatemelo sapere fatemi sapere anche come state in generale che non ve lo chiedo mai e sono maleducato per farvi capire come funziona un po' questa situazione prendo l'esempio del siero Rennergy di Lancome uno dei miei sieri preferiti in assoluto è un siero costoso ma che vi garantisco non è una sponsorizzazione non ho mai avuto sponsorizzazioni da Lancome quindi è proprio una mia opinione personale di quando lavoravo anche nei negozi cosmetici è un siero che fa delle magie e fa delle magie proprio grazie alla sua formulazione è composto da tre principi attivi fondamentali quattro in realtà l'acido ialuronico vitamina C egniacinamide e acido ferulico questi tre attivi insieme non potrebbero coesistere in una stessa camera si chiamano così le camere quelle che contengono gli ingredienti e i principi attivi innescherebbero una reazione pericolosa questo non vuol dire che una volta pompate con l'erogatore siano pericolose per il viso ma la loro costante presenza in una singola camera potrebbe appunto causare delle reazioni disattese per questo Lancome ha creato questo packaging dove all'interno ci sono tre camere separate che ognuna contiene il principio attivo diverso se Lancome non avesse fatto questo probabilmente il valutatore della sicurezza non avrebbe dato il suo permesso per la messa in commercio di questo siero e sarebbe stato un peccato per tutti noi nel frattempo la febbre sta aumentando ma noi andiamo avanti con tutte queste cose che abbiamo imparato sia da Nicolas che da Adriana e da quello che vi ho detto io dal punto di vista di legge possiamo dire con certezza che questo prodotto non abbia alcun ingrediente che possa far cadere i capelli di sì assolutamente però voi mi potrete dire come ho detto all'inizio che lo scandalo si è generato in America Latina quindi magari l'ingredientistica dell'America Latina è diversa da quella europea il vostro Charlie è andato a vedere anche l'ingredientistica a Argentina sono andato sul sito tra l'altro non so se anche per il sito di L'Oreal Italia ma per il sito L'Oreal Argentina L'Oreal permette di poter cliccare sul singolo ingredienti e ottenere una breve descrizione di quello che fa quel principio attivo o quella gente che trova una cosa molto intelligente che secondo me dovrebbero fare tutti i brand quindi brava mamma L'Oreal detto questo gli ingredienti in realtà non sono così tanto diversi cambiano leggermente vi dico la verità ma nessun ingrediente diverso da quello che abbiamo noi potrebbe causare la caduta dei capelli come dice Nico potrebbe essere una reazione allergica a un particolare ingrediente agente o principio attivo che porta o il sovrautilizzo che porta a una caduta dei capelli ma ancora potrebbe essere semplicemente che su un lotto di 2000 prodotti magari il 3% è andato a male come io sono una capra in matematica andiamo a vedere quanto è il 3% io penso che siano tipo 60 però il dubbio noi controlliamo sono più intelligente di quanto pensassi comunque di quel lotto di 2000 prodotti magari 60 sono andati a male a 60 quei 60 prodotti sono andati a 60 sfortunati e ma il problema è anche lì qual è che la singola sfortuna o la 60 sfortuna su un campione di 2000 perlomeno non sono compromettenti della garanzia della sicurezza o della qualità di un prodotto io non vi sto parlando volontariamente di qualità perché la qualità è soggettiva io posso dirvi a livello formulistico di legge e che non fa male vi posso dire a livello qualitativo che l'ho usato e non ho visto caduta di capelli oltre la normale alopecia androgenica di cui io soffro argomento di cui appunto non sono molto felice vorrei fare il trappianto di capelli però non è questo il punto quello shampoo non fa male può non essere lo shampoo migliore del mondo ma lì è un'analisi qualitativa del prodotto andare a dire che è un prodotto faccia o comporti o dei danni così gravi come la partita dei capelli perché anche qui vorrei sottolineare che danni del genere come la partita dei capelli possono essere danni gravi dal punto di vista psicologico che possono essere perseguibili a livello giuridico in tribunale insomma quindi fate molta attenzione quando si parla di queste cose di quelle persone che diffamano un brand del genere perché di diffamazione stiamo parlando perché l'accusare un brand o una persona di aver recato dei danni quando questo non è vero si incappa nella diffamazione che è perseguibile se invece voi siete così sicuri che quel prodotto effettivamente vi ha fatto cadere i capelli quello che dico io è perché non denunciate per danni quello che ne può uscire fuori è che salvate i capelli di molte altre persone e ci guadagnate dei soldi quindi se siete così sicuri non lo fate ma se non siete così sicuri forse incappate in quello che penso io mi riferisco in generale a tutte quelle persone che per un po' di visibilità per un po' di clout letteralmente si venderebbero l'anima e secondo me questa pletora di persone queste persone questa schiera di persone sta diventando sempre più ampia in particolare facilitata dalla creazione di contenuti veloci e verticali non che ci siano male i contenuti verticali io stesso sono il primo che fa i contenuti verticali che li crea ma reputo che la facilità di creazione di quei contenuti abbia portato a un'esasperazione del content creating in generale e del numero di persone e dell'accesso a questo lavoro questo è un lavoro privilegiato io l'ho detto mille volte ma con questo privilegio ne derivano tante responsabilità perché ci mettiamo a parlare a una schiera di persone molto vasta chi più chi meno se mi state guardando e siete dei piccoli content creator e pensate di non avere questo potere magari avete 500 persone che vi seguono in realtà è come se voi foste in una lezione e quelle 100 persone stanno tutte prestando attenzione a voi questo per dire che poi persone con numeri sempre più grossi da io fino a James Charles ci sono delle responsabilità sempre più grandi e dire queste cose semplicemente per difamare per avere visibilità è un atto amorale è ingiusto oltre che illegale se vogliamo io posso credere che ci siano state persone che effettivamente abbiano perso alcuni o più capelli del solito con l'utilizzo di questo shampoo proprio perché come ha detto anche Nico e Adriana potrebbero essere intervenute delle reazioni allergiche a questo prodotto da questo ne deriva che effettivamente questo prodotto faccia cadere i capelli no chi dice il contrario è tutte queste persone che si sono unite che sono più di quelle 60 sfortunate e aggiungiamoci altre 80 persone che effettivamente hanno avuto reazioni allergiche quindi oltre queste 140 persone che hanno avuto questi problemi le altre 1860 le altre 1860 effettivamente non hanno avuto niente e magari ne stanno parlando semplicemente per avere quell'attimo di visibilità ma la critica effettivamente il dissenso è il modo più veloce per aumentare o comunque per avere fama mediatica ma quando viene fatta così non ha nessun valore non ha non state basando il vostro lavoro comunque quello che vorreste essere un lavoro su una base certa è di interesse alcuni potrebbero dire che anche io parlo di scandali e drama o delle storie comunque di brand è oggettivamente vero che ne parlo anche io quello che faccio in realtà come dico in ogni video è semplicemente informazione è una chiacchiera con voi e infatti il più delle volte quasi sempre cerco di essere oggettivo a meno che non ci siano cose così particolari evidente di senso pubblico e morale che non posso non essere oggettivo però non posso non essere soggettivo però in generale cerco sempre di tenere un tono molto oggettivo per quanto riguarda il racconto poi mi perdo e faccio le scemenze e racconto le cretinate ma perché è comunque un format di intrettenimento non stiamo a scuola e non vi devo insegnare nulla il punto è che non sono un giudice non sono un boia e non sono un carceriere né quello che un esecutore quello che fanno molte persone in realtà è ergersi a giudice dire mi ha fatto male fa schifo è da denunciare è da distruggere e facendo così io vi attiro uno perché si crea questa idea dell'onestà che l'onestà è sempre qualcosa di ricercato quando in realtà non si parla di essere onesti ma si parla di essere volontariamente dissensuali mentre dall'altra parte si parla semplicemente di una falsa narrativa per arrivare comunque a quel concetto questo vuol dire che tutti i content creator che promuovono le cose siano onesti no anche lì bisogna fare delle analisi critiche oggettive sulle cose c'è il content creator che mente sfudoratamente pur di avere la tv c'è il content creator che non mente e che cerca di essere il più sano possibile bisogna analizzare di caso in caso l'unica certezza che abbiamo è che gli ingredienti di questo prodotto non facciano cadere i capelli questa è l'unica certezza con cui ce ne andiamo da questo video è l'unica certezza con cui vado a prendermi la mia tachipirina perché mi sto sentendo sempre peggio detto questo Angeli sono curioso di sentire la vostra opinione voglio sapere cosa ne pensate è stato un video un po' particolare mi rendo conto ho dovuto un po' alla mia performance non uguale al solito per i motivi che vi ho detto sia per l'argomento ma è un argomento che apre la possibilità a tanti discorsi mi sto preparando altri video che usciranno in futuro in particolare ci sarà un nuovo format che potrebbe uscire già a novembre e non vedo l'ora di parlarvene sono super emozionato io ancora una volta vi voglio ringraziare tanto non ci sono parole per dirvi quanto sia grato a ognuno di voi per tutto quello che fate per me inconsapevolmente anche quindi rinnovando questo grazie vi chiedo di lasciare queste emoji qua e di non lo so non so cosa sto dicendo sto male e boh fatemi sapere quello che volete cosa ne pensate questo shampoo se l'avete mai usato se avete perso i capelli oppure no fatemi sapere qualcosa insomma e io fino alla prossima volta come al solito vi do un mega bacio e come diciamo sempre alla fine di ogni nostro video be safe be cool and be you ciao angeli e ora vado a prendermi una tachipirina a presto a presto